Buongiorno amici di Visteri in Borsa Caccia di Dividendi, come sempre sono Lorenzo, vi porto attraverso il mio progetto di investimento, progetto di risparmio, un canale YouTube incentrato sull'educazione finanziaria, oggi parliamo di fondo pensione e anche quest'anno come tutti gli anni ho investito 5.000 euro nel mio fondo pensione o meglio per chi avesse già seguito i miei resoconti mensili quando mostro un pochino tutto il mio patrimonio sa benissimo che io ho tre fondi pensione, successivamente dirò anche il perché ne ho tre, non è importante sapere, ripeto, quale è il fondo pensione, piuttosto bisogna capire com'è il funzionamento e perché ne ho messi tre. Dirò tutto questo nell'arco di questo video. Allora, perché parlare di fondo pensione? Perché il tasso di sostituzione del nostro stipendio quando si andrà in pensione sarà di circa due terzi. Allora, statistica, siamo attorno al 66,3%, le fonti poi offrono sempre percentuali leggermente diverse, però grossomodo siamo attorno a un 65-70% di tasso di sostituzione. Cosa vuol dire? Che se io guadagno mille oggi di stipendio, quando andrò in pensione prenderò una pensione di circa 663 euro. Chiaramente riuscirà a essere sufficiente la pensione pubblica per soddisfare i miei bisogni di spesa. Ci sarà un gap, quindi, tra lo stipendio percepito e la pensione percepita di circa il 33%. Questo gap deve essere, in qualche modo, opinione mia, opinione, diciamo, un po' di tutti gli esperti finanziari, deve essere colmato questo gap, come attraverso il risparmio privato. Qui viene fatto un esempio di quello che potrebbe essere la pensione, ipotizzando un reddito annuo netto di 21.000 euro per una persona nata nel 1975, però, diciamo, l'elemento importante è che la pensione sarà circa i due terzi del nostro stipendio. Quindi, pensiamo se, quando andremo in pensione, un assegno di due terzi, ovvero del 66% del nostro stipendio, potrà essere sufficiente. Direi che potrebbe valer la pena accantonare qualcosa e, soprattutto, prima si inizia, meglio è perché c'è più tempo davanti. Ovviamente c'è la soluzione, quindi. Ricordiamo che il taglio delle pensioni potrebbe compromettere il nostro stile di vita. La situazione adesso è così, però, magari in futuro, visto che lo Stato continua a fare debiti per far andare avanti l'economia, perché, mille motivi, non vogliamo dire magari come vengono utilizzati male i fondi, eccetera, però le pensioni sono tra quelle cose che potrebbero essere tagliate. Quindi, riuscirò a mantenere il mio attuale tenore di vita quando andrò in pensione? La prospettiva di una pensione minima è lontana nel tempo, può spaventare. Come si può proteggere oggi il mio futuro? Allora, chiaramente esiste una soluzione, una di queste soluzioni è il fondo pensione. Le cose da dire sono tantissime, io spero di essere abbastanza coinciso e esauriente. Però, mettetevi comodi, mettete un bel like a questo video, mi supporterete nel mio progetto di educazione finanziaria. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche schiacciando sulla campanellina. Allora, le cose sono tante da dire e quindi partiamo subito. Allora, innanzitutto, perché investo 5.000 euro in un anno? Perché è possibile dedurre dal reddito imponibile i premi versati fino a un massimo di 5.164,57 euro all'anno. Quindi c'è un vantaggio fiscale veramente molto importante. In soldoni cosa vuol dire? Io verso 5.000 circa euro all'anno e ricadendo personalmente nello scaglione di reddito del 38%, quando faccio la dichiarazione dei redditi mi vengono restituiti il 38% di questi 5.000 euro. Quindi circa 2.000 euro mi vengono restituiti con la busta paga di luglio. Molto molto bene. Quindi primo vantaggio che non è assolutamente da escludere. Quindi molto molto interessante questo vantaggio fiscale. Però non deve essere l'unica motivazione per poter fare un fondo pensione. Chiaramente lo scopo è quello di crearsi un pilastro complementare aggiuntivo rispetto alla pensione statale. Allora, l'obiettivo chiaramente è quello di portare a termine il progetto di fondo pensione. Però, attenzione, i soldi sono bloccati ma ci sono delle possibilità di ritirare anticipatamente quanto versato. Quindi può essere che è su un anticipo dopo 8 anni di permanenza in fondo pensione fino al 75% per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa e fino al 30% senza dare motivazioni. Io personalmente l'ho già fatto, ho acquistato la macchina, ho ritirato il 30% senza dare motivazioni. In più è possibile ritirare anche il 75%, speriamo di non averne bisogno, per spese mediche gravi della famiglia. Allora, fondi pensione è una macro-categoria, possiamo dire. Possiamo individuare i fondi aperti, i PIP e i fondi chiusi. I fondi aperti sono istituiti da banche e imprese assicurative, SIM o SGR, può aderire chiunque indipendentemente dalla situazione lavorativa, mentre invece i PIP, i piani integrativi pensionistici, sono istituiti da imprese assicurative e, anche in questo caso, può aderire chiunque indipendentemente dalla situazione lavorativa. I fondi chiusi, invece, sono contratti o accordi collettivi o aziendali di lavoro e può aderire il lavoro, il lavoratore rappresentato dal contratto o accordo di lavoro. Allora, alcuni dei fondi chiusi più famosi sono FONCHIM, adesso faccio un elenco che non è esaustivo, sono veramente molte decine di fondi chiusi. FONCHIM per chi lavora nel settore della chimica, FONDO ENERGIA per chi lavora nel settore energia, COMETA, i metallomeccanici, ALIFOND per chi lavora nell'industria alimentare. Insomma, sono tutti quei fondi creati ad hoc per determinate categorie di lavoro. Qual è la cosa interessante in questo caso? Che, oltre al versamento del lavoratore, si può godere anche del beneficio di un versamento del datore di lavoro. La percentuale va in base da datore di lavoro a datore di lavoro, ci sono degli accordi aziendali, io personalmente aderisco al fondo della mia azienda e il datore di lavoro versa un 3,75% del mio stipendio. Io ci metto un 2%, quindi messi in mente, insomma, un bel gruzzoletto va a finire nel mio FONDO PENSIONE che ho creato con l'azienda. Quindi un beneficio aderire al FONDO PENSIONE, al FONDO CHUSO di categoria, è anche e soprattutto quello di beneficiare del versamento del datore di lavoro, altrimenti sarebbero soldi persi. Allora, quindi, chi può aderire ai FONDO PENSIONE CHUSI, i lavoratori dipendenti privati, i lavoratori dipendenti pubblici, i lavoratori atipici, i lavoratori in somministrazione, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, casalinghe addirittura e i soci di cooperative? Si può aderire ai FONDO PENSIONE APERTI anche attraverso un'adesione collettiva, quindi può esserci un accordo tra l'azienda e un FONDO PENSIONE APERTO per, diciamo, far aderire i lavoratori anche a determinati FONDO PENSIONE APERTI. I PIP, invece, possono. L'adesione, diciamo, può essere unicamente su base individuale. Allora, la contribuzione al FONDO PENSIONE. Come avviene? Avviene attraverso il versamento periodico di contributi volontari, che sono deducibili anno per anno dal reddito dichiarato ai FINIRP, come abbiamo visto prima, fino a un tetto massimo di 5.164 euro. Nel caso di lavoratori dipendenti si può, appunto, aggiungere una contribuzione da parte del datore di lavoro, come abbiamo detto in precedenza. E in più ci può essere anche il conferimento del proprio TFR. Quale può essere il vantaggio di versare il TFR in un FONDO PENSIONE? Il vantaggio è quello di, diciamo, non lasciare il TFR in azienda. Un'azienda che, se, diciamo, può essere reputata, sicuramente ogni lavoratore lo deve valutare per quanto proprio, se reputa la propria azienda dove lavora, magari un po' trabellante, un po' a rischio, nel caso di fallimento sarebbe difficile, potrebbe essere difficile entrare in possesso del proprio TFR. Perché, alla fine, le aziende utilizzano il TFR dei dipendenti per, diciamo, lavorare. In caso di fallimento, quindi, potrebbe essere difficile entrare in possesso del TFR. Se, invece, viene accantonato in un FONDO PENSIONE, questo TFR, diciamo, è fuori dall'azienda, ma viene gestito da un'impresa assicurativa o da una banca, o da una SIM, o da una SGR, come abbiamo visto in precedenza. Il conferimento del TFR al FONDO PENSIONE è obbligatorio in caso di adesione collettiva ed è facoltativa, invece, in caso di adesione individuale oppure in caso di PIP. Il TFR si può conferire al proprio FONDO PENSIONE per intero o nella percentuale minima fissata dal contratto collettivo di lavoro di riferimento. Allora, molto importante dire che anche c'è una flessibilità al 100%, soprattutto per quanto riguarda, o meglio, solo per quanto riguarda i PIP e, diciamo, l'adesione individuale. Perché, mentre per l'adesione collettiva c'è comunque l'obbligo di versare una parte del proprio stipendio, diciamo, periodicamente, quando si riceve lo stipendio, appunto, se uno aderisce in maniera individuale, ad esempio a un PIP, è possibile decidere quando, come versare l'importo mensile e l'importo annuale, se destinare alla pensione integrativa una parte o tutto il TFR e, in più, è anche, diciamo, possibile sospendere eventualmente e poi riprendere i versamenti successivamente. È possibile poi riscuotere quanto accumulato alla fine come rendita o come capitale. Questo qui lo vedremo poco più avanti. Tratto dal sito dell'Inps, poi possiamo dire che per un lavoratore dipendente una delle fonti di finanziamento della previdenza complementare è, appunto, il TFR. Se si decide di lasciare il TFR in azienda, si ricorda che qualora si tratti di azienda con almeno 50 dipendenti, il TFR non viene lasciato in azienda, ma, appunto, se l'azienda è a almeno 50 dipendenti, quindi per quelle aziende più grandi, il TFR viene versato al fondo tesoreria dello Stato presso l'Inps. Ovviamente mantenendo tutte le caratteristiche, restano uguali le modalità di rivalutazione, eccetera, però i soldi sono all'Inps. Ci fidiamo dell'Inps, punto di domanda, fatevi una risposta e poi agite di conseguenza. Cosa succede in cambio di status lavorativo? Non so, io adesso lavoro nel settore chimico, poi mi licenzio e vado a lavorare nel settore alimentare. Allora, in caso di adesione a un fondo aperto o di un PIP, non cambia nulla. L'aderente può continuare a proseguire volanteramente, beneficiando degli sgravi fiscali e mantenendo le tutele sottoscritte. Invece, in caso di adesione a fondi pensioni chiusi, quindi metti che magari prima versavo nel Fond Kim, adesso potrei versare nell'Alifond, lo status di lavoratore ha inevitabilmente rilevanza, perché è strettamente legato a un contratto collettivo o accordo aziendale di riferimento. Quindi, nell'ipotesi in cui l'aderente cambi attività lavorativa, questo perde requisiti partecipativi al fondo chiuso di categoria e non può più contribuirvi. Quindi, se io lavoravo nel settore chimico e versavo nel Fond Kim, vado in un'azienda del settore alimentare e non posso più versare nel Fond Kim, dovrò versare nell'Alifond. Quindi, le possibilità, in caso di cambio di status lavorativo, sono tre. Lasciare quanto versato fino a quel momento nel Fond Pensioni chiuso, ma senza poter contribuire e continuare a sostenere i costi di gestione. Quindi, i soldi li posso tenere nel Fond Kim, ma non posso aggiungerne altri. Si può riscattare l'intera posizione maturata con l'applicazione di una ritenuta fiscale del 23%. Quindi, dico, prendo tutto tassato al 23%, oppure si può trasferire la posizione accumulata in un altro Fond Pensioni a sua scelta, senza alcun onere fiscale. Quindi, prendo tutto quello che c'è nel Fond Kim e lo sposto nell'Alifond. Quindi, abbiamo fatto anche un esempio di questo tipo. Poi, arriviamo al momento del riscatto. Allora, non arriviamo alla fine, però è possibile riscattare comunque quanto accumulato fino a un certo momento. È possibile fare il riscatto parziale nella misura del 50% per inoccupazione superiore a 12 mesi, ma inferiore a 48. Quindi, per una inoccupazione tra un anno e quattro anni, si può fare un riscatto fino al 50%. Per cassa integrazione e mobilità. Riscatto totale per inoccupazione superiore a 48 mesi o per sopraggiunta invalidità che comporta in riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. Riscatto per premorenza in caso di decesso dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica secondo gli orientamenti COVIP che è l'organo di vigilanza sulle assicurazioni e sulle pensioni scusatemi viene riconosciuto ai soggetti disegnati dall'aderente deceduto oppure in mancanza di beneficiari disegnati agli arredi dello stesso secondo le norme del codice civile. Quindi, in caso di decesso prima di arrivo alla pensione i soldi non vengono persi ma vanno a finire agli eredi oppure ai soggetti disegnati. È inoltre possibile il riscatto per perdita dei requisiti il cui diritto è concesso agli aderenti a forme di previdenza complementare collettive ogni qualvolta si verifica la perdita dei requisiti di partecipazione quindi quello che abbiamo detto in precedenza. Tutte le ipotesi di riscatto elencate sono soggette alla tassazione agevolata e quindi aliquota del 15% che può arrivare fino al 9% con una riduzione quindi dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alla forma pensione circa complementare successiva al quindicesimo. Cosa vuol dire? Che se io riscatto in uno di questi casi e in uno dei primi tre casi la mia posizione dopo 15 anni ho una tassazione del 15% dopo 16 anni 15% meno 0,30 quindi 14,7 poi decresce mano a mano nel tempo fino a una tassazione minima del 9% ovviamente al 35esimo anno di permanenza nel fondo pensione. Sotto il profilo fiscale differisce unicamente il riscatto per la perdita dei requisiti per il quale è previsto l'applicazione di un'aliquota pari al 23% come abbiamo detto in precedenza in sostanza. Allora prestazione finale finalmente si arriva alla pensione Cosa è possibile fare? Allora si può scegliere al momento del pensionamento tra le seguenti tipologie di rendita quindi ovviamente si crea una rendita volta a supportare la pensione pubblica. Rendita vitalizia immediata ovvero viene corrisposta all'aderente fino a che rimane in vita. Rendita certa e successivamente vitalizia la rendita viene corrisposta all'aderente per un periodo certo di 5 o 10 anni ovvero in caso di eccesso ai superstiti beneficiari. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia se l'aderente è ancora in vita e si estingue se nel frattempo è deceduto. Terza possibilità rendita reversibile la rendita viene corrisposta all'aderente fino a che rimane in vita e successivamente al beneficiario designato se superstite. La rendita si estingue con il decesso del beneficiario. caso morte ovviamente ci sarà un costo di assicurazione nel caso di rendita reversibile. Poi c'è la rendita vitalizia con restituzione del montante residuale e poi ancora rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza. Quindi in sostanza in caso di sopravenuta non autosufficienza la rendita subirà una maggiorazione anche in questo caso chiaramente una prestazione di questo tipo si deve pagare e ci sarà un costo aggiuntivo. È possibile però ritirare anche il montante in forma capitale fino al 50% si può tranquillamente andare a riscattare la posizione in forma capitale oppure godrai della immediata disponibilità di tutto l'importo ovvero del 100% del capitale se convertendo il 70% della posizione individuale si abbia una rendita anua di importo inferiore al 50% dell'assegno sociale. Allora non si capisce niente però c'è una tabella esemplificativa e questo è il motivo per cui io faccio tre fondi pensione per evitare di arrivare a una soglia che supera uno di questi importi e quindi mi creo la possibilità di riscattare al 100% tutti e tra i fondi pensione. Sostanzialmente possiamo dire che se un uomo raggiunge i requisiti pensionistici a 68 anni e non ha un montante di fondo pensione superiore a 80.000 euro e 111 può ritirare tutto subito per le donne questo limite è invece di 94.677 euro potete vedere in questa tabella è inutile e pesante che io dica tutti i numeri però in sostanza se si supera un determinato importo c'è l'obbligo di mettere almeno il 50% del capitale accumulato a rendita e il restante si può ritirare se invece uno vuole ritirare tutto deve restare sotto una di queste soglie allora le cose che abbiamo detto sono tanti io spero di essere stato chiaro chiaramente non ho potuto dire tutto tutto se no saremmo stati qui 24 ore consecutive se avete delle domande comunque scrivetemele nei commenti a questo video youtube altrimenti come sempre mi trovate anche sugli altri canali social anche per oggi abbiamo finito un caro saluto a tutti da Lorenzo a presto ciao ciao ciao